Musica Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Dopo alcuni giorni di alta pressione, dall'Atlantico correnti più umide ed instabili stanno apportando precipitazioni sparse su gran parte del nord. Al centro-sud ancora prevalenza di bel tempo, ma in lento peggioramento a partire dai settori occidentali. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per mercoledì 2 novembre. Al mattino freddo, con cieli soleggiati ovunque. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento a partire dal Potentino, in estensione verso la Puglia centro-settentrionale con possibili deboli piovaschi. Altrove cielo che rimarrà però più sereno o poco nuvoloso. Per quanto riguarda le temperature, esse saranno in leggero aumento sia nei valori minimi e sia nei valori massimi. Nel corso della giornata, i venti subiranno un rinforzo dai quadranti sud-occidentali, più calmi solo sul Salento. I mari risulteranno poco mossi sia all'Oionio che all'Adriatico. Ma eccoci nuovamente con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Pierpaolo Saracino, che ci invia un'incantevole alba che illumina con i suoi colori caldi il lungomare di Bari. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleapula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti per l'attenzione e a tutti per l'attenzione e a tutti per l'attenzione.